I disturbi dengivali, se non trattati per tempo, possono portare alla perdita del dente. Oggi è possibile intervenire grazie a Periotaps. Non è un dettifriccio, non è un colluttorio. È un trattamento che agisce in profondità attraverso una tripliciazione. Rimuove i microorganismi dal spazzolino, agisce in profondità su gengivi, denti e impianti dentali. Agisce contrastando il biofilm batterico grazie alla formula concentrata di nitratin. Chiedi al tuo farmacista Periotaps innovazione in triplazione. Grazie a tutti.